Un'organizzazione capace di inondare Roma di droga, della quale faceva parte anche una batteria di picchiatori utilizzata per recuperare i soldi da chi non pagava. L'ha sgominata la Guardia di Finanza al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma, che ha portato alle emissioni di 51 misure cautelari da parte del GIP. Sono oltre 400 i finanzieri che hanno eseguito gli arresti tra Lazio, Calabria e Sicilia. L'operazione di narcotrafficanti, secondo quanto accertato dalle indagini, era in grado di rifornire la maggior parte delle piazze di spaccio in diversi quartieri della capitale. All'interno dell'associazione c'era un gruppo di soggetti che aveva un compito specifico, recuperare i crediti dovuti per l'acquisto della droga. Compito che gli arrestati mettevano in pratica con estersioni e pestaggi. Dei 51 provvedimenti emessi dal GIP su richiesta alla DDA di Roma, 50 sono misure cautelari in carcere, mentre nei confronti di una persona sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'operazione denominata Grande Raccordo Criminale viene eseguita con il supporto di elicotteri e unità cinofili. Tra i nomi emersi durante l'indagine è anche quello di Fabrizio Piscitelli, alias Deabolic, ucciso lo scorso 7 agosto con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti. Per gli inquirenti Piscitelli era uno dei riferenti della criminalità organizzata per fare entrare la droga, figura di riferimento nel controllo del territorio, nonché di garanzia e affidabilità dell'associazione, che si avvantaggiava della sua leadership. Godeva, sostengono gli inquirenti, di un particolare riconoscimento nella malavita e operava avvalendosi di personaggi altri urtras, come Ettore Abramo, conosciuto come Pluto, 53 anni, Agnello Marotta, 43, e Alessandro Telic, 32.